Ciao Avvocato Berni Ferretti, oggi parliamo del mio libro Milano 21.0. Perché Milano? Perché Milano è il motore dell'Italia che deve rivedere una burocrazia eccessiva, cauda di attesazione altissima, imparare a gestire il fenomeno migratorio con le convenzioni internazionali, rivedere una giustizia che deve essere più giusta e ripensare a se stessa come Smart City e come Green City. Tutto questo è Milano 21.0. Grazie a tutti.